Il presidente della Lettonia, Valdis Zlaters, ha annunciato in televisione di aver firmato un decreto per lo scioglimento anticipato del Parlamento. Zlaters accusa i deputati di voler proteggere un collega accusato di corruzione dalla magistratura. Il decreto dovrà venire approvato dalla Corte Costituzionale e poi dal popolo attraverso un referendum.